Il giallo di Lega Ambiente ad incuriosire i bagnanti in spiaggia a Salerno. Blitz di Lega Ambiente questa mattina contro il cemento illegale che da anni deturpa le bellezze della regione, nemico del mare e delle coste campane, con uno striscione con la scritta Giù le mani dalla costa, srotolato dai volontari dell'Associazione Ambientalista all'altezza della spiaggia di Santa Teresa a Salerno, con sullo sfondo la costiera amalfitana colpita nei giorni scorsi da un'enorme frana a causa di lavori abusivi sui costoni della divina costiera. Ancora una volta l'aggressione cementizia alle coste campane rimane la piaga di cui la Campania e l'intero paese stenta a liberarsi. La Campania detiene anche il primato nazionale del cemento illegale sulle coste, con il 17,1% dei reati accertati in Italia. Si registra un vero e proprio record di infrazioni, 1715, con un aumento del 20% rispetto allo scorso anno, con 1300 persone denunciate e arrestate e 395 sequestri effettuati. Accanto alle villette denuncia Maria Teresa Imparato, presidente regionale di Lega Ambiente. Le cronache locali ci raccontano di una miriade di chioschi, ristoranti, parcheggi, piscine, strade tracciate sulle dune e scalette scolpite nella roccia, licenze, edilizie fantasma, ordinanze di demolizioni non eseguite e richieste di sanatorie mai vagliate. In Campania le demolizioni sono al palo. Giù le mani della costa è un territorio che è già a maglia nera, la Campania a maglia nera per il cemento illegale, quello abusivo. 1700 le infrazioni che sono state certificate l'anno scorso dagli antipreposti e pochi giorni fa ancora, ancora grandi operazioni a danno dei cittadini della sicurezza, anche questa è sicurezza, una declinazione che in questi giorni stiamo provando a raccontare. Raccontiamo grazie alla tappa di Goletta Verde ma raccontiamo anche che le tante certificazioni di edilizia abusiva non vengono poi demolite, il 90% degli abusi poi subito dopo non viene demolito e quindi oggi accendiamo i riflettori in questo posto simbolico con la costiera amalfitana alle spalle, costiera che continuando così sempre più aggredita non sarà più la bellissima costiera amalfitana. Oggi per questo blitz avete scelto la spiaggia di Santa Teresa, un luogo che più volte negli ultimi tempi è stato oggetto di denunce e di scarichi anche illegali. Sì esattamente, gli scarichi illegali danneggiano i nostri mari, le nostre acque e la salute dei cittadini, per questo la Goletta Verde ha campionato 31, ha monitorato 31 posti in campagna. Lunedì presenteremo le analisi fatte dai nostri volontari insieme al Comitato Scientifico. Con il Covid quest'anno ci si attendeva una costa un po' più pulita, un mare più limpido, ma invece poi alla fine sembra non essere così. Sembra non essere così perché mancano i depuratori, manca il collettamento, la campagna ha tre infrazioni comunitarie, quindi noi paghiamo molte salate come per i rifiuti, così anche per la depurazione all'Europa. La depurazione deve essere prioritaria, quindi politiche prioritarie per collettare i comuni, sono 55 i comuni campani che ancora non hanno un collettamento, quindi non hanno depurazione. E molto spesso anche l'acqua che esce fuori dai depuratori non è acqua del tutto depurata, quindi c'è bisogno anche di fare un revamping, di innovare i depuratori esistenti. A tutto ciò oggi il Covid fa aggiungere anche uno smaltimento non corretto di guanti e mascherine. Quelle che abbiamo trovato sulle nostre spiagge con l'indagine Beach Liter. Allora ricordiamo prima di tutto di tenere la mascherina, di essere un bagnante, un turista responsabile ma anche di essere sostenibile, quindi di metterla negli appositi contenitori, va conferita nell'indifferenziato e magari invece di usare quella lavabile certificata invece di quella useggetta. L'altro ieri eravamo lì proprio al canale della Niena per ricordare la vergogna di quei giorni e la vergogna di acque che arrivano dalle nostre case e non sono ancora depurate. Per questo abbiamo avviato la Costituzione di parte civile, seguiremo e chiederemo di punire questo ecoreato.